Il Movimento Civico di Tolentino Voce alla Città ha organizzato lo scorso venerdì 13 dicembre un incontro nei locali dell'auditorium della Biblioteca Comunale con la scrittrice e giornalista Monia Benini sul tema «È questa l'Europa che vogliamo?». Gli intervenuti hanno avuto modo di prendere coscienza di ciò che è successo e sta ancora succedendo nella stanza dei bottoni della finanza europea. Dai colpi alle agenzie di rating, ai provvedimenti del Fondo Monetario Internazionale, alle misure della Banca Centrale e della Commissione Europea. Al termine ne è seguito un dibattito con il pubblico presente che è intervenuto con domande e ulteriori spiegazioni per chiarire e sviscerare ancora la complessità dell'argomento. Nel complesso un'iniziativa positiva, la prima di altre che seguiranno nel corso del 2014 in occasione del ventennale del Movimento Politico.